Era a Napoli la centrale ma le truffe agli anziani avvenivano in tutta Italia. 17 gli arresti eseguiti dai carabinieri su disposizione della procura di Roma. In carcere o ai domiciliari destinatari delle misure cautelari, a capo dell'organizzazione una famiglia partenopea a capo di una banda di 13 persone per cui il reato contestato è associazione a delinquere. Nel capologo campano la sede operativa con la centrale telefonica da dove partivano le chiamate a legnare vittime. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto anche un manuale con le informazioni per eseguire di volta in volta le truffe. 17 persone, 7 in carcere e 10 agli arresti domiciliari di cui come detto 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale dedito a truffe e distorsioni in danno di anziani e gli altri quattro di aver avuto un ruolo nell'esecuzione dei colpi. Come riscontro nel corso dell'indagine i carabinieri hanno eseguito 10 arresti in fragranza di reato per truffe consumate a Roma in danno di anziani con il recupero e la restituzione della refurtiva. 80 gli episodi contestati avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2023. Fingendosi impiegato delle poste assicuratore, avvocato o carabiniere il telefonista diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco che aveva provocato un incidente stradale, che l'assicurazione era scaduta e che per sistemare le cose era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime che solo ore dopo, parlando con il figlio e il nipote in questione, scoprivano il raggiro. Gli indagati in gruppetti da due persone partivano tutti i giorni da Napoli con autoprese a noleggio. Le vittime venivano scelte tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da telefonisti e poi raggiunte da corrieri.